E' ritornato il carattere che abbiamo visto lo scorso anno nei nostri ragazzi. Sì, sì, abbiamo giocato per tre quarti molto molto bene, ma forse oggi il passo in avanti non è stato fatto sui tre quarti, ma è stato fatto proprio nell'ultimo quarto, perché anche nell'ultima di Coppa settimana scorsa erano andati avanti anche lì di 20 punti contro sempre una squadra di C-Gold e anche lì secondo me erano stati bravissimi. E poi lì sono mancati tanti fattori, tra cui i due che erano qua, però i ragazzi, come ho detto anche l'altra volta, non ho nulla finora da rimproverarli perché l'impegno è al 110%, stiamo iniziando a fare le nostre cose. Dolfi è rientrato mercoledì, Laurinas, idem perché era fuori per l'infortunio, quindi questi due ragazzi hanno lavorato con la squadra per praticamente scarsi quattro allenamenti. Un applauso va, oltre magari a loro due, a Cutini, che sono, come le chiami tu, le bocche di fuoco. Sicuramente dietro c'è tutto un assemblamento. Io voglio fare un applauso a Samuele Gramaccia, perché... Samuele Gramaccia è stato veramente eccezionale. Sì, sì, è ritornato ad Arezzo veramente con una grinta, una motivazione, un'aggressività. Un'autorità eccezionale. Raul che sta riprendendo i suoi standard rispetto agli anni passati e sicuramente presto si accoderanno a loro anche chi per diversi motivi sta dando qualcosina in meno rispetto a quello che noi eravamo abituati a vedere lo scorso anno.